25 milioni di euro di investimenti solo nei primi sette mesi di quest'anno è un bilancio di metamandato che trova forma nelle 45 bandierine segnate sulla mappa che arriverà nelle case di tutti i lecchesi. 17 progetti completati, 11 quelli in corso, altri 17 al via. Dei primi fanno parte il primo lotto del Teatro della Società, l'iniziativa di Portoio, Sacco Rosso e Servizio Postscuola, l'Ostello e il Deors di Pescarenico a fare da sfondo alla conferenza stampa. Tra gli interventi al via, la realizzazione del nuovo asilo nido di Buonacina e la riqualificazione del Lungolago. Una città che cresce, ha sottolineato il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, accanto al capigruppo di maggioranza e alla Giunta. A ottobre saranno tre anni di amministrazione, obiettivo dichiarato governare per altri sette fino al 2030. Ci è sembrato giusto esporre con trasparenza a tutti i cittadini, su un volantino che verrà distribuito nelle prossime settimane nella casa di ciascuno di voi, i contenuti di quanto abbiamo realizzato fino ad oggi. Su questa mappa sarà assegnata con dei bollini verdi, con dei bollini gialli i cantieri in corso e con dei bollini rosa i progetti che partiranno da qui al 2026, cioè da qui alla fine del mandato. Come si diceva, 25 milioni di euro di lavori sono già stati assegnati, altrettanti, quindi per un totale di circa 50 milioni di euro, sono in programma nei prossimi due anni. Il che vuol dire che questa è una città che cresce, è una città che si è rimessa in moto, è una città che credo si sta dimostrando attuale, moderna, a livello delle città europee, su tanti aspetti, compresa la sostenibilità ambientale, sociale e ovviamente anche quella economica, perché le risorse che siamo riusciti a intercettare dai vari bandi vengono subito riversate a vantaggio dei cittadini lecchesi. Pensava sarebbe stato così difficile e poi il bione. No, non pensavo sarebbe stato così difficile, ma non pensavo neanche che sarebbe stato così bello, perché devo dire che fare il sindaco non smetti mai, ma dà soddisfazioni enorme. Bione sarà la ciliegina sulla torta, nel senso che se davvero riuscissimo a far partire una ristrutturazione complessiva del centro sportivo bione, così come da proposte che già sono arrivate e che stiamo valutando, direi che l'anno prossimo potrebbe essere l'anno in cui anche la partita albione potrebbe risolversi con un cantiere e quindi con un intervento radicale a beneficio delle future generazioni.